E' stata una domenica caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, sfociate in diverse ore di maltempo, quella vissuta nella zona nord del Nisseno, a San Cataldo, Caltanissetta e non solo. Nel primo pomeriggio, prima forti raffiche di vento, poi un violento temporale tra tuoni e fulmini e infine una violenta grandinata hanno creato non pochi disagi. A San Cataldo sono stati predisposti immediatamente interventi per rimuovere detriti e rami. Avviata anche una perlustrazione del territorio per verificare eventuali danni. Previsto anche un incontro con i titolari delle attività economiche che hanno segnalato problemi. Massiccio è il numero di chiamate ai vigili del fuoco che sono intervenuti anche sulla strada provinciale numero 5, Vivio Minichelli-Favarella, nelle vicinanze di Contra Danissima. Qui la forza del vento ha piegato fino a spezzarli diversi alberi. Si è reso necessario anche l'uso di motoseghe per agevolare la rimozione dei tronchi. Successivamente è stato possibile far riprendere il traffico veicolare. Nel capoluogo lungo la via Cavour, in prossimità di Villa Cordova, parti di alberi si sono abbattuti su un'auto in sosta tra il disappunto della proprietaria che ha pubblicato il video su Facebook.